Un nuovo parcheggio per Bari potrebbe sorgere in via Cifarelli, all'altezza del conservatorio. Al progetto sta lavorando il comune. L'area destinata al servizio è ampia 14.000 metri quadrati ed è attualmente proprietà di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, ma che sarà liberata in seguito alla ridistribuzione dei binari. RFI ha intenzione di dismettere quell'area e l'amministrazione comunale ha già avviato l'interlocuzione. Il nuovo parcheggio prevede circa 800 posti auto e verde. La posizione è strategica e potrebbe servire al comune da una parte per realizzare un parcheggio al servizio del Libertà e del Centro, collegato con una passerella ciclopedonale anche alla futura fermata delle ferrovie Apolo-Lucane, dall'altra da cedere in parte ai vigili del fuoco per realizzare il nuovo distaccamento Carrassi, dato che l'attuale è situato in una sede non più idonea. Il progetto è al vaglio.